A nome di Alcesinto Desert, rinda una piantaggio di mais, rinda una foresta, rana nas, sotto alla bomba l'orocas, adotto tutta la contella, adotto di cercare un'aiuto, sotto all'unom con una parola, a nome di Di Mora, Di Mora, Di Mora. Pagno di folla per Enzo Abitabile, artista napoletano che non delude mai le aspettative del folto pubblico che lo segue. È stato lui ad animare il momento clou del programma civile che ha accompagnato i festeggiamenti in onore della Madonna dell'Assunta. Tradizionale appuntamento agostano, di località Manna, ad Ariano Irpino. Sono giornate molto sentite dagli abitanti del posto che da anni hanno recuperato questa tradizione e portandola avanti con grande spirito di partecipazione e collaborazione. Enzo Abitabile ieri sera ha trascinato sulle sue note musicali giovani e meno giovani, proponendo un repertorio di tutto rispetto. Del resto la sua carriera parla da sola. Quattro nomination ai BBC World Music Awards, la rivista Songlines arriva addirittura a definire il disco Salvamo Moon, Top of the World. Abitabile e i Bottari portano in giro l'anima della musica napoletana e non a caso il loro primo importante incontro musicale è stato quello con Pino Daniele. Nel corso della sua carriera, Abitabile si è esibito nei festival WOMAD di Peter Gabriel, ma anche al London Jazz Festival e poi Umbria Jazz, Montreal Jazz Festival, insomma tournée che hanno toccato i cinque continenti. Abitabile e i Bottari non amano molto gli schemi e le logiche commerciali della musica italiana, parola, suono, gesto e danza si amalgamano nelle loro note e i loro concerti, come quello di ieri sera in Contrada Manna, coinvolgono spesso il pubblico che li segue nelle loro tournée. Mi siete? Mi piace. Mi guardo molto e ti dobbiamo sperare perché è delle feste di notte, ma le mandi bene. E la con polni van, a lui ci mi scelga noi, neve un deserto, si apri lume su. Grazie a tutti.